Lungo questo stupendo percorso naturalistico Lettone sono giunto nel famosissimo sentiero Lettone. Il sentiero Lettone è molto simile al sentiero tibetano, è fatto di tronchi conficcati nel terreno. Come potete vedere questi tronchi conficcati nel terreno escono di circa 30 centimetri. Perché escono di circa 30 centimetri? Per far sì che il percorso, il sentiero, sia percorribile anche durante la stagione invernale, perché durante la stagione invernale, che qui è lunga e rigida, è molto più lunga di quello che voi potete immaginare, perché qui non siamo in Italia, siamo nell'estremo nord, qui è tutto ricoperto di neve. Per cui l'antica tradizione popolare Lettone faceva sì che i sentieri venivano tutti ricoperti di tronchi. In questo momento ci troviamo su un famosissimo e tipico percorso naturale della Lettonia.